Si parte col 25 giugno con l'Historic Minardi Day, una data importante, un revival che ci è stato chiesto prima di tutto dai collezionisti proprietari di vetture minardi funzionanti, ma anche da tanti tanti amici che ancora dopo dieci anni ricordano le vetture della Minardi sui circuiti di tutto il mondo. Abbiamo pensato a Imola perché sono 35 anni dal primo Gran Premio di Formula 1, un Imola che vedrà non solo le Minardi partecipi a questa stupenda giornata, ma tanti amici con altre vetture, con altre vetture di prestigio di Formula 1 che calcheranno sul circuito del Saterno a fianco alle Minardi. Sarà una giornata di festa e appunto perché deve essere di festa abbiamo cercato di mettere insieme anche tutte le vetture di Formula 2 storiche e di Formula 3. Speriamo di fare contenti i nostri tifosi, i collezionisti soprattutto, ma tutta quella gente che da dieci anni non vede più una Formula 1 a Imola. Quindi venite tutti al 25 giugno al Historic Minardi Day. Salviamo la data.